Nome? Vincenzo. Simone. Cognome? Fiorillo. Aresti. Anno di nascita? 90. 1986. Ruolo? Portiere. Squadra per cui giochi? Pescara. Squadra per cui ti fa abita bambino? Sampdoria. Cagliari. Passatempo preferito? Shopping. PlayStation. Canzone preferita? One dei U2. I cowboy non mollano Max Pezzali. Il tuo idolo calcistico? Buffon. Campos. È vero che i portieri sono un po' matti? Sì. Sì, basta guardare Fiorillo. Le squadre in cui hai giocato? Sampdoria, Regina, Spezia, Livorno e Pescara. Pistoiese, Alghero, Cagliari, Savona, Pescara. Un aggettivo per Mr. Oddo? Positivo. Ottimista. Un pregio del mister? Sincero. Solare. Difetti? Ne ha? Qualche d'uno. Difetti? Allenamenti troppo lunghi. Si può essere amici tra compagni di reparto? Certo. Assolutamente sì. Meglio fare amicizia con gli attaccanti? Meglio con i portieri. Difficile. Un attaccante a cui siete legati? Guido Marilungo. Melchiorri. Voi amici fuori e in campo? Rivali. Con Melchiorri? Sì, sì. Gol? Ne avete mai fatti? Da bambino io. Io sì, due. Difficile parare i rigori? È abbastanza. Difficilissimo, visto che ne ho parato veramente pochi in carriera. Un tuo pregio? La simpatia? Generoso. Ah no, aspetta, devo trovare un altro mio pregio, perché generoso è quello di Vincenzo. Un tuo pregio? Solare. Un suo pregio? La sincerità. Generoso. Un tuo difetto? Sono molto permaloso. Un mio difetto? Permaloso. Un suo difetto? Burbero. Permalosissimo. Se fossi un supereroe? Batman. Beh, se proprio devo scegliere Superman. Saluta e manda un messaggio al tuo amico. Ciao Simo, ci vediamo domani, non ti sopporto più. Ci vediamo a pranzo, spero che almeno stavolta paghi tu vince.